buongiorno buongiorno a tutti carissimi miei brothers bentornati in questo spazio dove vi parlerò o meglio rifletteremo su una una fiaba meravigliosa che ci spiega un po anche in che mondo siamo immersi e quindi parlando proprio di quel che dicevamo qualche giorno fa cioè cosa possiamo fare per lavorare spiritualmente interiormente come adulti come giovani fiabe leggere fiabe per noi adulti per i nostri figli io sto notando anche nei vari incontri che faccio di counseling con genitori che ahimè non leggiamo più niente ai bimbi cioè sono pochi i genitori che leggono fiabe racconti che raccontano storie che raccontano del loro passato del passato di quando erano piccoli di cosa abbiamo imparato come adulti ma paletta ma abbiamo imparato qualcosa magari non è niente di che magari è anche sbagliato la risposta è dentro di tema è sbagliata però è bello condividere cioè che cosa passiamo i nostri bimbi boh non lo so quindi le fiabe sono qualcosa di potentissimo per noi adulti e per i ragazzini allora vi dicevo che l'altro giorno ero in libreria e ho comprato due libri di fiabe del grandissimo Hans Christian Andersen uno dei più grandi scrittori di fiabe seguitemi perché leggeremo la fiaba gli abiti nuovi dell'imperatore che entra nella realtà del nostro tempo ci fa vedere come il re sia nudo ma perché nessuno se ne accorge e chi può dire che il re è nudo è una cosa meravigliosa quindi entreremo nella fiaba ma vi voglio anche suggerire due testi da leggere di fiabe appunto sono sempre di Christian Andersen un testo è questo questo testo qui è Ulrico o Elpi editore e qui ci sono le fiabe tradotte moltissime fiabe di Christian Andersen tradotte con delle illustrazioni meravigliose e la traduzione è una è la prima traduzione che è stata fatta quindi è veramente stupenda è fatta in maniera meravigliosa però diciamo che il linguaggio è un po' e questo libro è stupendo il linguaggio è un po' ostico per il nostro tempo per i bimbi soprattutto quindi questo è un testo un po' più adolescenziale preadolescenziale o il bello di leggerlo noi adulti e aiutare i bambini a comprendere delle parole anche a volte arcaiche un modo di esprimersi un po' arcaico ma ce la facciamo cioè non voglio dire non è la divina commedia ci sono alcune parole tipo briccone insomma beh vedrete voi io ve lo consiglio questo testo le fiabe di Hans Christian Andersen Ulrico o Elpi editore per facilitare la lettura della fiaba di oggi e anche per consigliarvi un altro testo io vado oggi leggo su questo è molto diretto cioè il contenuto della fiaba rimane lo stesso però è più per bimbi però per noi in questo video è meglio essere diretti rapidi altrimenti la lettura dell'altro testo sarebbe molto più lunga ci sarebbe molto tempo e questo testo è proprio per preadolescenti per bimbi piccoli le illustrazioni non sono quelle meravigliose originali ma sono un po' un po' più appunto bimbe questo che testo è questo è Giunti Le fiabe di Andersen illustrate da Rosaria Battiloro Giunti editore vi faccio rivedere molto ben fatto per preadolescenti bambini per una lettura un po' più facile e anche immediata tra noi adulti e bimbi 12 euro questo il capolavoro qui costa 30 euro bene allora oggi leggiamo questa fiaba e vediamo tutti gli aspetti metaforici simbolici rimandi al nostro mondo interiore perché le fiabe sono questo cioè risvegliano proprio degli strati più profondi più elevati della nostra coscienza fanno dei parallelismi dei confronti cioè ci permettono non è che li fanno immediati diretti sennò non sarebbe una fiaba ma sarebbe una sorta di analisi filosofica decostruzione della realtà eccetera e la fiaba è bella per questo la fiaba a volte è visionaria sul futuro e anticipa il futuro poi ci sono fiabe che sono introspettive che svelano metaforicamente dei livelli interiori quindi sono praticamente spirituali psicologiche e spirituali ecco la mancanza cioè non leggere con i nostri bambini e a noi stessi adulti una sera prendiamo una fiaba di questo capolavoro di libro a volte magari dobbiamo guardare un po' il significato di alcune parole capiamo il senso ma è bello anche riscoprirle proprio vedere esattamente cosa significa una parola che veniva usata magari 80-90 anni fa ecco ci mettiamo lì sul nostro c'è una nostra poltrona sul divano e leggiamo una fiaba e chiudiamo smartphone tv programmi io penso che la notte il sonno scivolerà scivoleremo nel sonno in maniera meravigliosa cioè purificano proprio va bene adesso abbiamo visto anche che la Disney vuole cambiare le fiabe perché sono cioè guardate ragazzi siamo in un tempo allucinante allora gli abiti nuovi dell'imperatore proviamo a leggerla e io direi ai bimbi si può fare a noi stessi una prima lettura diretta con calma ma una lettura semplice poi si può chiedere e tu cosa ne pensi di questa storia cosa ci dice questa fiaba e poi possiamo fare una lettura un po' più articolata complessa noi se abbiamo voglia magari se il nostro figlio è un po' più grande va bene gli ambiti nuovi dell'imperatore cosa ci racconta Andersen dice c'era una volta un imperatore molto vanitoso il cui unico pensiero era vestirsi con abiti eleganti ben presto la notizia della sua passione per la moda superò i confini del regno e giunse alle orecchie di due imbroglioni questi architettato un piano si presentarono all'ingresso del palazzo imperiale cioè già qui ci sono difficilità di metafora di riferimenti alla realtà noi qua abbiamo l'imperatore l'impero che in un certo senso è il politico lo stato e arrivano degli imbroglioni gli imbroglioni che perché arrivano c'è un vizio c'è un vizio nella politica nell'imperatore è la vanità l'imbroglio colpisce sempre la parte non centrata non reale la parte viziata è lì che entra diciamo che il foro della diga che può far crollare la struttura politica dello stato e poi di noi cittadini in una in una sorta di valanga una caduta valanga comunque andiamo avanti un po' più veloci perché allora questi architettano un piano e si presentano all'ingresso del palazzo imperiale abbiamo messo appunto uno straordinario sistema per tessere una stoffa talmente leggera da sembrare invisibile anzi è talmente invisibile a chiunque anzi è totalmente invisibile a chiunque sia stupido il capo delle guardie mandò subito a chiamare il ciambellano che a sua volta avvisò il primo ministro il quale corse dall'imperatore a riportare l'incredibile notizia l'imperatore è vanitoso questi studiano un piano arrivano lì e dicono guardi qui abbiamo una stoffa meravigliosa così leggera che sembra invisibile anzi è invisibile a chiunque sia stupido ed ecco che la leva sull'ego la personalità il ramo spurio di coscienza che ci fa fare cose sciocche perché non ci conosciamo dobbiamo apparire siamo sempre là fuori estroversi cosa pensano gli altri che vestito ho e lì ci sono tutte le leve per rovesciarci per portarci dove vogliono il sovrano curioso ricevette subito i due uomini e fece dare loro un sacco di monete d'oro e un telaio per tessere la loro stoffa qualche giorno dopo chiamò il primo ministro va a vedere come procede il lavoro gli ordinò e poi portami notizie l'uomo fu ricevuto dai due imbroglioni ecco primo ministro venite ammirate i colori sentite la leggerezza il ministro chino sul telaio cercava con il monocolo di vedere la stoffa che però non c'era e per non passare da stupido esclamò che stoffa meravigliosa i due furfanti erano felici questo è un passaggio importante che nel libro quello un po' nel libro nella traduzione originale è trattato in modo più ampio tutta la fiaba è trattata in modo più ampio però capite già io sto ampliando la fiaba se ve la leggo anche più ampia due tre giorni vedete voi cosa volete scegliere per voi stessi per i vostri figli comunque questo è un passaggio importantissimo perché l'imperatore manda il primo ministro il primo ministro si trova di fronte a questi imbroglioni che hanno creato un artificio interessantissimo cioè se tu non la vedi sei stupido e chi si prende la responsabilità di andare nel dubbio non sapendo se ma è vero quel che mi raccontano questi tessitori questi sarti sono io stupido ecco il dubbio della personalità che può accettare qualunque cosa perché poi in questo artificio dialettico in questa sorta di illusione deve andare dall'imperatore e dire ma io non vedo niente e se l'imperatore dovesse venire e vedere la stoffa capirebbe che io sono stupido ma io lo sono sono incapace nel libro originale si parla della stupidità dell'incapacità sono un incapace un incapace a regnare a governare la giocano più articolata e provate a pensare un po' quando viene lanciata un'idea una visione delle cose dall'informazione dai giornali da chi conta è difficile esporsi e dire no ma guardate che le cose non mi sembrano così perché si crea un artificio che l'avevamo trattato in un video molto lungo che fa sentire l'individuo solo che alza la mano beh intanto appunto solo isolato ma lo fa vedere agli occhi degli altri come una persona proprio sola isolata che si espone al pubblico ludibrio alla critica al giudizio e anche se gli altri hanno la sua stessa percezione bisogna avere il coraggio di alzarsi e contrastare la forza la forza del messaggio dominante del messaggio che tutti rapidamente vedranno cioè quello portato dal potere il messaggio del singolo che si ribella è silenzioso passa piano e quindi immediatamente non libera allora io come faccio ad aderire al messaggio di colui che dice ma qua non mi tornano le cose sapendo che sarò denigrato giudicato estromesso per lungo tempo e lì si gioca tutta la possibilità della falsità della bugia di diffondersi di essere accettata dai molti ma qua dopo vediamo alcuni passaggi stupendi allora i due truffatori sono felici che il primo ministro dica mio dio bellissima questa che stoffa che vestito se avevano raggirato il consigliere dell'imperatore considerato una persona intelligente e difficilmente ingannabile ormai era quasi fatta vedete l'aspetto bizzarro bisogna soprattutto convincere le persone che sono ritenute più intelligenti che sono consiglieri che sono le persone che organizzano e strutturano quando hai convinto quelle persone il politico la persona di facciata è un secondo è spacciata si recarano allora dall'imperatore per le prove dell'abito nuovo venite avanti ordinò il sovrano ecco maestà ammirate l'abito fatto con la stoffa più bella del mondo dissero i due inchinandosi e fingendo di reggere un vestito tra le mani cioè questi sanno di mentire non hanno nulla tra le mani ma anche nella fiaba originale Anderson ci fa capire che questi tessono tutta la sera tutta la notte sono totalmente impegnati nella truffa non è una cosa che prendono alla leggera a volte noi ci chiediamo ma com'è possibile che si diffondano menzogne che vengano ricamate beh certo l'immenso guadagno che hai ti fa portare avanti un qualcosa una narrazione una struttura nella quale ti sei pienamente immedesimato altrimenti non funzionerebbe sono degli artisti della bugia della truffa del raggiro della manipolazione e sono vestiti in maniera elegante giacca e cravatta oggi diremmo il truffatore non si può presentare da straccione noi abbiamo spesso paura dell'ultimo del povero di colui che sta in un angolo di strada sì certo ti può far del male ti può derubare ma i grandi disastri collassi che poi aumentano la povertà nel mondo sono fatti da la giacchina e la cravatta sono fatti da persone che vanno a farsi la manicure che schifo di gente allora si recarono allora dall'imperatore ecco maestà ammirate l'abito fatto con la stoffa più bella del mondo dissero i due inchinandosi e fingendo di reggere un vestito tra le mani l'imperatore che naturalmente non vedeva nessun vestito ebbe un attimo di panico ma qui non c'è nulla e ora come faccio pensò fra sé non posso dire che non vedo niente altrimenti passerò per fesso passerò per una persona incompetente incapace di amministrare come scrive Anderson in maniera più ampia poi tornò subito allegro per non far trapelare il suo disagio i cortigiani presenti in sala come il loro sovrano stavano ammirando il nulla ma per non passare da stupidi facevano mille apprezzamenti al vestito ed ecco che si è creata la catena della dell'adesione alla bugia la catena della propaganda praticamente ma chi si prenderà l'onere e il rischio di dire che è tutta una farsa quando la forza coloro che rappresentano la forza hanno convalidato la menzogna è veramente difficile maestà adesso dovete togliere il vostro abito e indossare quello nuovo esclamare nei due imbroglioni porgendogli uno specchio in cui rimirarsi cioè lo denudano anche perché si deve mettere il vestito nuovo e quindi la situazione divenne sempre più ridicola l'imperatore è nudo è in mutande e mi ricorda uno stato in mutande uno stato che fa continue scelte azioni anche azioni verso i cittadini che rendono tutto sempre più ridicolo siamo sempre più nudi sempre più ridicoli eppure l'imperatore si vergognava nel vedersi nudo davanti a tanta gente ma poiché nessuno dei presenti sembrava accorgersene si sentì sollevato quindi lui pensa di essere protetto coloro che guardano pensano di essere stupidi e si crea una catena di vizio terrificante cioè lui pensa di essere sono solo io che mi vedo nudo sono solo io il fesso gli altri si sentono in colpa dicono noi siamo fessi che non vediamo nulla e così si crea proprio una morsa la morsa dell'ignoranza della bugia maestà disse a questo punto il primo ministro il popolo è ansioso di ammirarvi con l'abito nuovo e qua sono guai ragazzi perché eccolo qui cioè quanti nostri politici sono così e quanti di noi stiamo assistendo a questa farsa e stiamo zitti ma è una farsa anche a livello pedagogico a livello di scuola cosa stiamo facendo delle scuole cioè abbiamo livelli incredibili di farsa vabbè quest'uomo nella metafora gira nudo qua ci stiamo giocando anche la salute la libertà comunque l'imperatore non era proprio convinto di mettersi in mutande davanti al suo popolo ma non l'avesse fatto tutti avrebbero riso di lui chissà quante cose nella testa dei nostri di coloro che dovrebbero governare non tornano però come ne usciamo da un sistema che ad un certo punto diviene un lucchetto una catena adesso vedremo come ne usciamo va bene disse concederò al popolo questo privilegio bellissimo questo passaggiro il privilegio di osservarmi di vedermi poi nella sua vanità nel suo narcisismo mi vedessero anche nudo quasi quasi se non fosse perché hanno detto che essere nudi non vedere è da sciocchi mi vedessero anche nudo sono anche una bella un bel vedere qua l'hanno fatto proprio c'è proprio bello cicciottello comunque e fece preparare il corteo sulla piazza principale tutti erano accalcati per vedere meglio ma via via che l'imperatore passava la folla si rendeva conto di non vedere nulla addosso al sovrano ecco qui nella vi aggiorno ve la racconto io nella versione ufficiale è più lunga la narrazione e le persone si accorgono cioè si accorgono però si accorgono individualmente dicono mio dio ma io non vedo nulla e c'è una sorta di sgomento di silenzio però nessuno ha il coraggio di dire alla persona a fianco ma io non vedo niente sempre nel timore perché si è sparsa la voce che chi non vede questi vestiti è persona di poco conto incapace è persona shock e quindi tutti sono paralizzati nonostante stiano nonostante vedano la realtà non possono come accettarle ed esprimerla una cosa che Andersen non fa nella fiaba è raccontare ipotizzare che una di queste persone abbia il coraggio di dire ma io non vedo niente lo fa fare lo fa dire esprimere a chi e questo è un passaggio veramente importante ad un bambino ad un certo punto un bambino gridò avete visto l'imperatore è in mutande l'imperatore è nudo l'imperatore sentendo quelle parole capì di essere stato imbrogliato ma preferì continuare il corteo con la convinzione che tutti quelli che lo guardavano erano stupidi questa è bellissima ad un certo punto si autoconvince del contrario della realtà anche se inconsciamente ha capito che è stato raggirato ma a quel punto è nudo in mezzo ad una piazza ed è un po' quando i totalitarismi ad un certo punto non si fermano anche di fronte alla debacle totale e portano il potere loro stessi e il loro popolo alla morte non ci si può più ritirare sarebbe troppa l'umiliazione dell'ego della personalità e allora si accetta di camminare nudi in mezzo ad una strada pensando che tutti gli altri siano sciocchi che non vedono ciò che tu non vedi ma ti stai convincendo ad un certo punto di avere i vestiti più belli del mondo e diciamo che ad un certo punto si può anche convincere di vederli la follia totale schizofrenia totale il passaggio importante è perché è un bambino che dice il re è nudo allora Andersen questa cosa non la tratta ma è bello pensarla se un adulto un uomo si fosse alzato avesse gridato il re è nudo sarebbe stato probabilmente ucciso incarcerato picchiato un bambino si può permettere questa cosa poi ho pensato alla figura del folle del giullare che spesso nelle corti di un tempo era presente perché erano molto più sagge e il matto si poteva permettere di dire certe cose il giullare poteva permettersi di dire certe cose scomode folli ai limiti però permettevano di aprire la mente la ragione se la cosa espressa fosse stata troppo pesante troppo al di là delle strutture delle convinzioni del tempo è un folle è un giullare e tutti ridevano però intanto era stata espressa e veniva pensata oggi non si può più esprimere nulla i giullari non ci sono i folli vengono incarcerati e coloro che ragionano e pensano vengono definiti folli questa è una cosa importante da capire ci restano i bambini come è successo qui mio dio un tempo brutto anche per i bambini però questa fiaba ci dice che l'innocenza vede e si permette di esprimere di dire nessuno della folla avrebbe accettato un suo pari un adulto che avesse detto ma è nudo avrebbero detto tutti tu sei scemo tu non vedi sei stupido ma un bambino no un bambino è innocente è immediato e lo sa la nostra coscienza è per questo che il bambino spezza l'illusione l'inganno lo spezza per il popolo non per l'imperatore ecco allora che ritrovare quell'innocenza e quella forza di capire l'innocenza dei bambini perché a me credo che i bambini oggi ci stiano dicendo un sacco di cose i pazzi ci stanno dicendo un sacco di cose i giullari ci stanno dicendo un sacco di cose le persone che ragionano in maniera libera ampia e che vengono definite folli ci stanno dicendo un sacco di cose in questa fiaba il popolo probabilmente è sufficientemente umile sufficientemente aperto di cogliere subito l'invito del bambino ecco allora che in questa narrazione stupenda possiamo dire che c'è l'imbroglio i commercianti coloro che imbrogliano la politica l'imperatore che stanno dietro le quinte probabilmente erano già spariti avevano preso i soldi l'oro del re che aveva dato l'oro per tessere il nulla bellissimo il re è esposto è esposto al fallimento alla nudità all'imbroglio e gli architetti dietro i burattinai sono già spariti chi è che spezza tutto questo inganno la voce dell'innocenza la voce di un bambino bene divenissimo sempre più capaci di ascoltare i bimbi e sempre più bimbi forse verremmo imbrogliati meno e saremmo molto più liberi io chiudo qui vi ricordo appunto che la lettura di questi due testi ci aiuta tantissimo questo che oggi sono stato proprio bimbo questo è più per i piccini e questo capolavoro qui è più per noi per i ragazzi per gli adolescenti bene ci vediamo al prossimo video sperando di non essere nudi ciao ciao